...di riportare in piazza i nostri balli tradizionali. Quindi questa serata è dedicata a lui. Cristo che era un ballonino, era amante del ballo tradizionale e di solito quando andavamo a ballare nelle piazze si avvicinavano per fargli complimenti per la sua eleganza, no? Non era uno che si lasciava andare molto nel passo, però aveva una postura. Quindi questa sera abbiamo deciso di consegnare un premio Eleganza al ballerino o alla ballerina che si è distinta proprio per questo motivo. Abbiamo un ricordo da consegnare che ci ha fatto Nanni Pulli, il ceramista di Selarjus che ricorda un po' mio padre con il suo stile e non a caso c'è Roberta perché verrà premiata una ragazza e la vincitrice di questo premio è Ludovica. Grazie. 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 Grazie.